Validità del Green Pass ridotta da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio, mentre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. E poi obbligo di mascherine anche all'aperto, obbligo dell'utilizzo delle mascherine FFP2 nei luoghi chiusi per gli eventi sportivi e sui mezzi di trasporto pubblici e nessuna festa o concerto, nemmeno all'aperto in piazza, fino al 31 di gennaio. Sono queste in sintesi le principali novità decise oggi a Roma dalla cabina di regia. Cabina di regia che si è protratta oltre il tempo stimato, causando il ritardo del Consiglio dei Ministri che era previsto alle ore 17, poi slittato di un'ora. Sul tavolo di Palazzo Chigi, oltre alle nuove misure anti-covid che saranno contenute nella DL Festività, anche il Mille Proroghe e il Via Libera definitivo all'assegno unico per le famiglie. Le nuove restrizioni sono volte a contrastare il dilagare della variante Omicron, a cui in Italia attualmente sarebbe riconducibile il 28,2% di casi. Intanto l'Abruzzo per ora resta in zona bianca, grazie al tasso d'occupazione ospedaliera in area medica al di sotto del 15%. Oggi nella nostra regione sono 662 nuovi casi covid. Si tratta dell'11,2% dei 5.890 tamponi molecolari processati. Quella di Teramo è la provincia più colpita, seguita a breve distanza da quella di Pescara. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.763, 420 in più rispetto a ieri. Di questi 130 pazienti, 5 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 15, uno in meno rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 7.618 positivi accertati, 416 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 242, mentre nelle ultime 24 ore non si registra alcun decesso.